è il tormentone del momento dove si trova crasta torino lì c'è la mole sono volate accuse di transfobia le due donne che gestiscono l'attività sono state insultate con commenti transfobici ciao ragazzi oggi sono io a cui farlo martin oggi vi presentiamo una delle pizza menù la sua adige e te rappresentiamo in due perché siamo due per lavorare da crasta devi essere trans ciao scappati di casa io sono fabrizio e valerio al mio cognome benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di tg talk il telegiornale più shock del web dedicato al fantastico magico mondo di tiktok dove si trova crasta torino è il tormentone del momento sarà vero sarà falso o sarà che non ce ne frega un c***o prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale e qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto gossip drama e il meglio anche il peggio di tg talk vi ricordo poi anche di seguirmi su instagram dove mi trovate come fabrizio valerio ed ovviamente anche su tiktok visto che di questo che parliamo dove sono sempre fabrizio valerio ed eccoci qua ragazzi nuovo tg talk nuove notizie super super shock che vi devo raccontare infatti a grandissima richiesta parliamo del tormentone del momento che a tutti quanti almeno una volta sarà uscito nei per te di tiktok allora dove si trova crasta torino dove si trova crasta torino questo è letteralmente il tormentone di queste ultime settimane e fate bene attenzione perché il video che avete appena visto è diventato in pochissimo tempo virale ha raggiunto milioni e milioni di visualizzazioni ma soprattutto ha dato il via ad un vero e proprio fenomeno del web prima però di raccontarvi tutto quanto dobbiamo fare un passo indietro perché che cos'è crasta torino siamo di fronte ad un ristorante pizzeria che ha un menù molto variegato da una parte abbiamo le specialità della cucina messicana dall'altra un menù pieno zeppo di pizze gourmet insomma ce n'è per tutti i gusti e soprattutto i gusti del pubblico di tiktok beh crasta li ha come posso dire conquistati infatti letteralmente iconica è diventata claudia la ragazza che vediamo nel video che è diventato virale in queste ultime settimane dove si trova crasta torino lì c'è la mole seguimi e insomma ragazzi la sua camminata velocizzata è diventata un vero e proprio fenomeno del web tutti ne parlano tutti sono pazzi di claudia ma soprattutto di crasta torino questo ristorante non solo si trova a pochi passi dalla mole antonelliana di torino ma anche una sede ad asti detto questo perché parliamo di crasta torino perché come vi dicevo il video che vi ho appena fatto vedere è diventato un vero e proprio meme tantissime tantissime persone ci hanno fatto dei meme sopra insomma i più divertenti li starete vedendo probabilmente ora in sovrimpressione fa molto ridere no questa camminata questa camminata velocizzata di claudia che dalla mole arriva poi a crust la pizzeria ma che cosa succede claudia diventa un vero e proprio personaggio social infatti di fronte a questa donna tante persone hanno subito notato una certa somiglianza infatti claudia secondo moltissimi utenti del web sarebbe un mix di ben due personaggi famosi da una parte abbiamo lui rcomi quello che tutti quanti noi conosciamo per le sue bellissime canzoni ma anche perché è un bel pezzo di manzo ma a parte questo dall'altra abbiamo maria de filippi questa altra come posso dire icona cioè nel nome di maria de filippi uomini e donne temptation island amen ecco claudia secondo moltissimi utenti è un mix tra rcomi e proprio maria de filippi guardiamo insieme questo video super divertente che mi ha letteralmente spezzato guardate molto bene ragazzi la fusione è riuscita perfettamente bravi allora dove si trova crasta torino lì c'è la mole seguimi ma c'è di più perché ad un certo punto in queste ultime settimane oltre la fusione di dragon ball c'è chi appunto ha visto rcomi ospite proprio ad amici dove c'è anche maria de filippi ecco qualcuno ha deciso di registrare rcomi in tv e di mettere in sottofondo solo e soltanto un suono quello di crasta a torino guardate dove si trova crasta torino lì c'è la mole seguimi insomma lo abbiamo capito tutti sono pazzi di crasta torino tutti sono pazzi di claudia che oggettivamente ricorda moltissimo sia arcomi che maria de filippi credo che tutti quanti abbiano detto maria de filippi per via del suo capello biondo e corto ma insomma che cosa succede succede che crasta a torino non è soltanto questo video e claudia ma al fianco di claudia c'è un'altra ragazza che ha fatto molto discutere sto parlando di marty colei che gestisce sostanzialmente come posso dire le pizze i panetti gli impasti ed è proprio in un video in cui ci parla delle sue pizze straordinarie che marty si è attirata qualche critica o qualche commento ironico guardate ciao ragazzi oggi sono io che vi parlo marty sono contento che vi stiano piacendo i nostri gusti ma soprattutto i nostri impasti ed è per questo motivo che vi anticipo che ci sarà una grande sorpresa quindi rimanete connessi che ci sarà una grande novità ed è proprio nei commenti di questo video che marty riceve uno dei commenti forse più quotati sotto i video di crasta a torino c'è infatti chi si chiede ma la pizzeria è dentro una palestra perché obiettivamente sia claudia che martina hanno un fisico veramente molto prestante cioè io appena ho visto questi video ho detto ma che sta succede cioè sono veramente toniche e lo dico anche con un po' di invidia perché anche io vorrei andare in palestra e avere questo fisico che hanno loro ma fatemelo dire marty forse anche questo fisico perché ha voglia di impastare pizza insomma a un certo punto te li fai i muscoli no ma a prescindere da tutto questo tante persone nei commenti hanno detto beh insomma per lavorare da crust devi sollevare 100 kg sulla panca o comunque devi essere palestrato eccetera eccetera ma parallelamente a questo genere di commenti c'è anche chi dice ma insomma martina claudia ma non è vero sono la stessa persona c'è chi addirittura dice che sono identiche e che appunto esiste solo e soltanto una persona a rispondere a chi crede che lei cioè claudia e martina siano la stessa persona sono state proprio loro in prima persona insieme a dire ragazzi noi siamo claudia e marty siamo due persone diverse guardate quindi insomma lo abbiamo capito claudia e marty sono assolutamente due persone diverse ma ragazzi onestamente va bene qualche commento ironico ma era palese che ci fosse claudia da una parte e martina dall'altra ora di fronte a questa coppia stravagante no comunque due ragazze molto fisicate eccetera eccetera si è creato un alone di mistero c'è chi dice che sono due sorelle c'è chi dice che sono due fidanzate c'è chi dice che sono due amiche onestamente nulla sappiamo su claudia e marty ma quello che è successo in queste ultime settimane ha davvero dell'incredibile perché se fino a qui tutto bello tutto molto interessante ci siamo fatti due risate con i meme ad un certo punto di fianco al nome di crust pizzeria di torino c'è una parola davvero scioccante sto parlando di transfobia a parlare di transfobia e di crust a torino è una persona e qui adesso vi spiego perché utilizzerò dei pronomi neutri o comunque cercherò di farlo al mio meglio usando la lingua italiana che purtroppo tante cose neutre non ha questa persona si chiama arono e ha pubblicato un video nel quale ci mostra ci parla del fatto che in queste ultime settimane le ragazze di crust a torino siano state aspramente criticate ed insultate addirittura con dei commenti transfobici guardate a torino l'abbiamo visto ormai tutti qui su tiktok ma sapete cosa ho visto io i commenti perché le due donne che gestiscono l'attività sono state insultate con commenti transfobici molte persone le hanno chiamate con le versioni maschili dei loro nomi altre hanno scritto che per lavorare da crust devi essere trans ma sapete qual è la cosa divertente? che loro non sono trans sono due donne cis quindi non c'è molto da dire spero che vi rendiate conto di quanto state male nel fare questi commenti e di fronte alle argomentazioni di arono a rispondere è stato un ragazzo lui si chiama il signor settembre su tiktok e ha deciso di prendere il video di arono e di rispondere per filo e per segno siamo di fronte a dei commenti transfobici o è semplicemente ironia queste sono state le sue parole guardate meno una volta l'avete visto nei per te poi arriva lei che trova insulti dove non ci sono i commenti sono ironici lei è la figlia di Ercomi e Maria De Filippi nulla di transfobico è reo fattina risata piuttosto va? e di fronte a tutto quello che vi ho raccontato finora posso dirvi arrivati a questo punto la mia io seguo da sempre Crasta Torino credo che avessero all'incirca 6.000 followers quindi eravamo veramente all'inizio di questa pagina di questa avventura social di questa pizzeria e ristorante a Torino e ad Asti e che cosa succede? non vi nego che a primo impatto nel momento in cui ho visto quel video il video che tutti conosciamo dove si trova Crasta Torino lì c'è la mole effettivamente quando ho visto Claudia credevo in realtà che fosse un uomo non lo dico per cattiveria o per insultare Claudia semplicemente il suo aspetto fisico mi ha portato a credere che fosse un uomo poi ho letto che si chiamava Claudia ho letto insomma e ho ascoltato tutti i vari suoi video e ho capito che era una donna transgender cisgender un uomo una donna a prescindere da tutto questo Claudia mi ha fatto molta simpatia mi ha fatto molta simpatia anche il modo in cui comunicano sui social questa pizzeria e quindi li ho seguiti quindi a prescindere dal fatto che Claudia e Martina siano uomini, donne, cisgender, transgender onestamente a me non frega assolutamente nulla quello che mi ha colpito di questo fenomeno social è veramente la simpatia e l'iconicità di tutto quello che hanno fatto ed effettivamente ho notato che si sono fatte aiutare giustamente da un'agenzia di comunicazione da un ragazzo che vediamo anche nei video e sono veramente molto molto bravi perché sono riusciti a costruire una vera identità di questo brand alla fine visto che hanno bensì non uno ma due ristoranti detto questo io credo che di fronte ok magari a primo impatto Claudia può sembrare una donna mascolina può portare a pensare che sia una donna transgender e lo stesso può valere per Martina vediamo queste donne molto fisicate magari anche la loro voce ci ricorda quella di un uomo ma quello che più mi viene da dire in tutta questa vicenda è questo che io sono andato a leggere i commenti sono andato a leggere tantissime volte i commenti proprio per vedere se c'era qualcuno che scriveva qualcosa di cattivo e soprattutto a livello transfobico la cosa che mi ha colpito positivamente è che di tutti questi video o meglio di tutti questi commenti dei quali ha parlato Arono io ne ho visti ben pochi ora o devo andare a farmi mettere degli occhiali o delle lenti oppure questi commenti non esistevano cioè vi giuro cioè io ho letto migliaia e migliaia di commenti e sono tutti positivi o comunque ironici in cui dicono che c'è una somiglianza con Rcomi ma da lì ad interpretarli come un vero e proprio insulto a livello addirittura transfobico ce ne vuole secondo me e vi dirò di più chi parla di transfobia parlando di crasta Torino dà implicitamente la certezza che queste due ragazze siano delle donne trans quindi io non capisco veramente a dove sia nata tutta questa polemica tutto questo marasma generale che si è creato sui social anche perché 2023 quasi 2024 dobbiamo ancora stare qui a sindacare che una donna o un uomo cioè veramente ci deve interessare se una donna o un uomo sono un uomo o una donna biologicamente parlando cioè sin dalla nascita non lo so ragazzi io quello che vi dovevo dire ve l'ho detto e cioè ho visto questi video mi è piaciuta subito Claudia mi sono piaciute insomma tutte queste scenette da crust a Torino e li ho seguiti poi che siano donne trans che siano donne cisgender chi se ne frega arrivati a questo punto però fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate cioè credete veramente che l'idea di uomo cioè solo l'uomo può essere muscoloso una donna non può esserlo perché altrimenti è un uomo è un travestito è un trans queste cose ho sentito anche per quanto riguarda altre persone qua sui social no ad esempio c'è una bodybuilder lei è veramente aspramente criticata per della chirurgia plastica per il fatto che abbia dei muscoli e quindi tutti quanti usano la parola trans transgender per insultarla anche se lei è una donna biologica e comunque anche se fosse una donna trans non capisco dove stia il problema nel volere dei muscoli e un fisico scolpito e quindi veramente quello anche che voglio dirvi verso la fine di questo video è proprio che se di fronte abbiamo una persona che non rispecchia i canoni canonici quindi quel modello che abbiamo in mente per un uomo per una donna cioè purtroppo è brutto dirlo ma una donna agli occhi della società deve essere si sportiva sì ma non troppo muscolosa sì ma non troppo cioè ragazzi veramente la follia e quando abbiamo di fronte una persona che non rispecchia questi cosiddetti canoni ci sembra strano ci triggera un po' no? che per carità può anche essere normalmente che una persona insomma a primo impatto dica ok ci può stare ragazzi ma da lì ad insultare ovviamente no cioè ve lo ripeto super simpatiche queste due ragazze super simpatiche di idea anche di comunicare crasta a torino in questo modo detto questo aspetto adesso i vostri commenti come sempre qui sotto quindi fatemi sapere vi stanno simpatiche marty e claudia di crasta a torino e soprattutto andreste mai in questa pizzeria o a torino o ad asti io tra qualche settimana andrò proprio ad asti quindi non vedo l'ora di passare da crasta a torino anche perché io voglio assolutamente mangiare lì il video finisce qui e spero che vi sia piaciuto e se è così lasciate un bel pollice in su iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video vero Mark? vai saluta Mark vabbè ragazzi anche oggi noi ci abbiamo provato ciao